signori e signori voi non lo sapete ma c'è una farema siamo un po in ritardo ma carichi si è quasi venuta a Biasca però non è stato bene allora te lo dico a Biasca a dopo comincia settimana prossima a Lugano ci sono 250 spettacoli gratuiti abbiamo fissato la metà strada come va? è stata dura ma cominciavate a sentire il caldo siamo qua alla Suisse Miniature e dopodiché riprenderemo insieme al porto Medi dettagliamo la via Bacchiasso siamo qua alla Suisse Miniature e dopo di che riprenderemo insieme al porto Medi dettagliamo la via Bacchiasso ciao 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 ciao